Ciao ragazzi, eccomi qua, bentornati dalle ferie, perché è tornato, buone vacanze per chi andrà Fra poco inizierà la scuola, perciò chi deve iniziare la scuola ragazzi, inizio di buona scuola a tutti Niente, eccomi qua perché, o niente, ho fatto l'ultimo acquisto per arrivare all'ultima espansione di The Sim 3 Ce le ho tutte praticamente, questa era l'ultima, grazie a Dio le ho finite ragazzi, finite, meno male Non vedrò che esce Sim 4, questo è il cd, questo lo scontino, questo anche sto, basta, finito Questo è il mio unico acquisto che ho fatto, perché per ora ragazzi, come ripeto, sto valutando un po' la situazione Per la Playstation 4 che l'ho prenotato, tutto quanto Vediamo un po' i giochi che prenderò, vediamo un po' l'uscita Niente, che dirvi, io ringrazio tutti i miei iscritti, ringrazio tutti i miei iscritti che mi seguono continuamente Grazie ragazzi, un grazie a tutti E niente, questo è un breve video per farvi vedere l'acquisto che ho fatto Niente, fa un caldo della madonna Se volete raccontarmi cosa avete fatto durante le vacanze, poi le acquistiche che avete fatto Tutto quello che volete Io saluto tutti i miei iscritti, lo zio Sparchita 86 Ita, c'è Francesco il mio amicone Poi saluto tutti gli altri che io come al solito non mi viene mai in mente Salvatore, mio fratello Sergio Poi tutti i miei iscritti, ho fatto un nuovo taglio tattico, Crestino, lo vedrete crescere sempre di più Ho fatto, ho riaperto il piercing, so che non mi fanno magari un cazzo, però l'ho riaperto Da solo, sì Mi sono messo allo specchio, ieri non c'ho un cazzo da fare, mi sono riaperto il piercing E niente, poi andrò adesso a fare dei tatuaggi, poi vi farò vedere il settimo ottimo Adesso vediamo un po', quello fa un po' il freschino E poi ragazzi aspettiamo sta uscita di PlayStation 4 a novembre E poi vediamo cos'altro prendere Sto aspettando di prendere per PC, vediamo un attimino E niente ragazzi, io vi ringrazio come sempre E niente, scrivetemi cosa avete fatto durante le vacanze, tutto quanto, i vostri acquisti Ho fatto anche il secondo buco Sì, ho fatto un po' di cazzate, non c'è un cazzo da fare, l'ho fatto E niente, ci vediamo al prossimo video ragazzi, che non so che acquisto farò Sicuramente per PC O magari per 3DS Vediamo un po' Anche perché ho molto, ovviamente non ho molto tempo per giocare Né sul PC né sul 3DS perché Sono sempre in giro un po' Con i bambini pelosi, con i bambini non pelosi Niente ragazzi, alla prossima Poi farò, adesso andrò a vedere anche dei film Che sono usciti al cinema E poi vi dirò la mia, come la penso Niente ragazzi, alla prossima e ciao belli